Il Presidente del Consiglio Italiano, in tutti i consensi internazionali, è il più esperto, è colui che ha un passato pieno di successi nell'imprenditoria privata, che lo fa taicun e lo distingue quindi grandemente mettendolo su un gradino più alto rispetto a tutti gli altri leader e modestamente, volevo ricordare ad Angelino che in procedura civile qualcosa ne so anch'io, gli stimi ai 30 lode anche in procedura civile e modestamente quanto a intusleggere, a intelligenza, non è secondo a nessuno. Sono convinto che gli italiani, se sapessero quello che ha fatto il nostro governo, dovrebbero farci un monumento. Grazie a tutti e ricordatevi di non prendere mai sul serio chi si prende troppo sul serio. L'autilonia è sempre fondamentale. Grazie.